Se state riscontrando problemi riguardo all'aggiornamento o installazione riuscita a me il 15 di settembre quindi l'aggiornamento KB5043076 è andato sul mio sistema è possibile risolvere il problema attraverso il ripristino di Windows Update ovviamente andiamo un attimo a cancellare il download perché una volta che hai scaricato l'aggiornamento poi lo vai a installare e non funziona quindi in questo caso andiamo un attimo a cancellare la cartella degli aggiornamenti che hai fatto vai su questo pc, disco locale C, scendi fino a giù fino a trovare la cartella di Windows scendi fino a giù fino a trovare la cartella che si chiama Software Distribution e vai su Download questa cartella dei download, cancelli così la cartella dei download una volta fatto chiudiamo un attimo qua proviamo anche a svuotare i file temporanei quindi eliminiamo qualsiasi cosa che può rallentare il nostro computer quindi basta che vai direttamente su esegui per cento per cento entriamo così nella cartella cancelliamo così la cartella cancelliamo quello che possiamo cancellare e facciamo Ignora una volta fatto chiudiamo un attimo qua e ora in descrizione ti ho lasciato così un comando da inserire sul PowerShell per fare un ripristino del quindi andiamo direttamente su PowerShell Windows PowerShell esegui come amministratore e facciamo sì una volta fatto questo è il comando da inserire arrestiamo così il servizio di Windows Update poi si avvia il servizio quindi facciamo CTRL-C per copiare tutto il comando e lo inseriamo qua e facciamo invio servizio trasferimento intelligente in background non avviato mentre qui c'è scritto il servizio di Windows Update sarà per essere arrestato continuiamo così questa operazione e vai a schiacciare S una volta schiacciato S premi invio e aspettiamo ora si sta avviando quindi abbiamo avviato il nuovo Windows Update è andato una volta fatto scrivi exit e fai invio una volta fatto vai direttamente su servizi scendiamo fino a giù fino a trovare Windows Update eccolo qua il servizio di Windows Update è in esecuzione quindi il servizio funziona perfettamente se il tuo stato è arrestato metti avvia e qui ti dirà in esecuzione tipo di avvio metti automatico e fai applica se non dovesse funzionare vai direttamente su risoluzioni problemi altri strumenti di risoluzione dei problemi e andiamo così a mettere Windows Update facciamo così una scansione per rilevare i suoi problemi verifica la presenza di problemi in Windows Update diciamo che il problema è stato risolto mettiamo no invia feedback su questo strumento di risoluzione dei problemi ovviamente poi devi accedere per usare così l'hub dei feedback e chiudo così lo strumento come ultimo passaggio è l'installazione manuale ovviamente se non funziona automaticamente possiamo farlo manualmente quindi in questo caso andiamo su Windows Update verifica disponibilità aggiornamenti cronologia degli aggiornamenti 15 settembre questo è l'ultimo aggiornamento che mi ha installato quindi vado a copiare così questo codice faccio copia questo è l'aggiornamento che devi installare ed ecco qua il catalogo CTRL V e cerco così l'aggiornamento quindi l'aggiornamento che devo installare è 23H2 super 64 questo qua 23H2 eccolo qua o ti dice di scaricare questo se per esempio devi vedere il titolo completo qua sopra a me è questo faccio su scaricamento il file deve finire come .msu scarica perché se non finisce come .msu non puoi installare l'aggiornamento clicca qua sopra ti scarica l'aggiornamento di 700 MB scarichi installi fai una bella installazione e una volta fatto devi riavviare il computer quindi se sei riuscito a risolvere il problema grazie a questi passaggi fammelo sapere sotto al video e noi ragazzi vediamo un prossimo tutorial ciao 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 Grazie a tutti.